Riscoprire le antiche ricette dei territori con prodotti di stagione appena raccolti, creare un rapporto diretto fra produttore e consumatore e contribuire alla difesa dell'ambiente perché la filiera impiega meno combustibili fossili per il trasporto. L'agricoltura al femminile fa rima con innovazione ed è da questo valore aggiunto che nasce AgriCatering, la nuova attività ideata da donne in campo della Confederazione Italiana Agricoltori. Il progetto prevede l'offerta di servizi di catering a filiera corta, dove tutto nasce direttamente dal lavoro nei campi, senza intermediazioni. Proiettata su scala nazionale, l'operazione rivela un potenziale da 150 milioni di euro all'anno. L'agricatering è già partito in via sperimentale in Toscana e in Basilicata e ora punta a creare una rete nazionale e per fare questo le imprenditrici agricole della CIA si sono date un regolamento ben preciso, un marchio ad hoc ed un rigido disciplinare.